Continua con successo la Primavera al Garibaldi, la rassegna teatrale organizzata da Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio. Ieri sera a Lucera, Alessio Boni e Marcello Praier hanno portato in scena il Canto degli Esclusi, un suggestivo concertato a due voci sui versi della poetessa dei Navigli. Come nasce questo viaggio nel mondo della poesia di Alda Merini? A parte la poesia ci appartiene sia a me e a Marcello che ci conosciamo da più di mezzo secolo. perché, vabbè, c'è comunque il nostro maestro Horacio Costa dall'Accademia d'Arte Drammatica, tutto quello che abbiamo fatto insieme, sono un po' di anni che cerchiamo di, nella modalità del coro, cercare di concertare le due voci come se diventasse una voce unica, come se diventasse veramente la voce di Alda Merini. È strano, no, scegliere due attori maschi, una poetessa femmina, invece no, proprio perché diventa senza sesso, diventa una voce unica, diventa una profondità. Vorremmo non esserci sul palcoscenico noi stasera qui al Teatro Garibaldi, che tra l'altro è meraviglioso, è la prima volta che metto piede ed è straordinario. E ringrazio Fabrizio Gifuni che ci ha ospitato qui, perché vorremmo che ci fosse lei qua, non può esserci, non c'è più, vorrei che cantassero i suoi versi, la sua voce, la sua delicatezza, la sua osmosi con il pubblico, e noi vorremmo completamente annientarci. Ecco il perché lo chiamiamo concertato a due, non è una sorta di snobbismo o di ricerca in porte fatta, è proprio così, io ascolto lui in modo giazzistico, lui ascolta me, ogni sera è una cosa diversa e cerchiamo di riprodurre un canto, che è il canto degli esclusi, che è appunto questo di Alda Merini, è la sua poeticità che dovrebbe parlare, dovrebbe arrivare, diciamo, alla sensibilità dello spettatore. La poesia è ancora un linguaggio, riesce a toccare ancora corde dell'animo umano, non è un linguaggio superato? Perché è la lingua dell'infanzia, dell'infante, delle anime che sono nate per stupirsi continuamente, per cui è la via maestra. E com'è tornare in Puglia? È sempre venire qui, c'è una luce diversa, abbiamo fatto un percorso insieme dalla Toscana, siamo scesi in macchina e mi è preso la pioggia, ma il paesaggio arriva qua e c'è una luce davvero che cambia completamente, questa luce rispecchia anche le anime di questi, dei pugliesi, di queste persone, in particolar modo in questo caso la luce era.